quid ergo mei consigli est dunque qual è il mio consiglio mi melius videtur mi sembra preferibile melius facere fare quod nostri maiores quel che i nostri antenati contra cimbros et teutones fecerunt quel che i nostri antenati fecero contro i cimbri e i teutoni si racconta traduntur che i nostri antenati nostri maiores inoppi da compulsi respinti nelle città axubacti e costretti simili inopia da una penuria simile alla nostra vitam tolleravisse si sostentarono corporibus con i corpi cioè cibandosi dei corpi eorum di coloro qui che etate per l'età videvantur inutiles sembravano non utili cioè non adatti ad bellum alla guerra quid illi simile bello fuit che cosa fu simile a quella guerra ossia che cosa ebbe quella guerra di simile a questa depopolata gallia devastata la gallia fertur cimbros si racconta fertur che i cimbri aliquando eccessisse a un certo punto se ne fossero andati et alias terras petivisse e che si fossero diretti verso altre terre romani vero mi evidentur mi sembra invece che i romani consessuri esse in agris et civitatibus nostris si insedieranno nei nostri campi e nelle nostre città et nobis e che a noi injuncturi esse imporranno eternam servitutem un'eterna schiavitù e che ci infliggeranno un'eterna schiavitù